signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale e questa settimana con il terzo appuntamento con la serie estiva passeremo finalmente a fare quella che è la parte più importante probabilmente anche più difficile ma sicuramente più gratificante dell'intero processo di creazione nell'ambientazione collaborativa per chi se vi fosse persi negli scorsi episodi abbiamo visto prima come raccogliere le idee da parte dei vostri giocatori per rendere il vostro dungeon collaborativo qualcosa di creato effettivamente dalle idee di tutti e settimana scorsa abbiamo dato un'occhiata a quali sono le idee che sono arrivate dai membri della community del master cae per il nostro esperimento di mega dungeon collaborativo questa settimana quindi cominciamo a andare a smontare le idee che sono arrivate e vedere come riassemblarle assieme per ottenere quello che in teoria avete già visto che sono i video della serie del mega riassunto del mega dungeon come avete visto anche dal titolo l'argomento di questa settimana è la decostruzione quindi cominciamo da quello quando si parla di decostruzione si intende prendere un testo che può essere proprio il testo di un libro di un romanzo un film nel nostro caso le varie proposte per il mega dungeon e andarlo ad analizzare per identificare quali sono i temi e i concetti fondamentali e andarli ad estrarre praticamente vedere da quali troppo il testo è composto e poi andare a sganciare questi troppo dal testo stesso nel nostro caso poi dato che non dobbiamo semplicemente analizzare le proposte ma dobbiamo creare un'ambientazione collettiva una volta trovate quali siano queste figure fondamentali questi elementi base dovremo poi andare a confrontarli tra di loro vedere se ci sono degli elementi ricorrenti e quali sono per poi andare a rimontare tutto assieme mettendo assieme le idee e magari modificandole per far modo che anche qualcosa che non fosse esattamente sovrapponibile lo diventi con un minimo di fantasia mettiamola così quali siano le idee lo abbiamo visto la settimana scorsa nel caso vi lascio linkato qua in alto il video se volete vedere di che cosa stiamo parlando nello specifico adesso andiamo a vedere come far a smontarle cominciamo da quello che probabilmente è l'elemento essenziale e preponderante per quanto riguarda la nostra intera ambientazione cioè dove si trova questo mega dungeon e come è fatto la stra grande maggioranza delle proposte lo ha collocato in un territorio brullo estremamente difficile da raggiungere con singole proposte che vanno dal più banale deserto fino a paesaggi devastati e post apocalittici diciamo che evidentemente c'è una maggioranza soverchiante che lo vuole in un territorio estremamente aspro con un clima tra l'altro quasi sempre descritto come assolutamente sfavorevole quindi questa è praticamente la nostra primo elemento la maggioranza ha deciso per un luogo estremamente aspro e brullo e noi metteremo il dungeon in un luogo aspro e brullo con un clima incremento c'è però un exequo su quale sia l'esatta natura di questo luogo e per quale motivo sia inclemente se andiamo a vedere le proposte infatti praticamente metà ha descritto il luogo come un deserto proprio un vero e proprio luogo dalle temperature estremamente alte e l'altra metà invece l'ha destritto come una tundra gelata a volte dicendo che l'intero dungeon fosse proprio inumato nel ghiaccio in questo caso non è possibile stabilire direttamente qual è una maggioranza perché praticamente metà delle persone hanno votato per il caldo metà delle persone ha votato per il freddo e quelli che non hanno detto nessuna di queste due cose hanno votato tutt'altro come fare quindi in casi come questo potenzialmente avrei potuto intervenire direttamente io come master d'autorità cioè decidere il dungeon sarà così e scontentare arbitrariamente un gruppo o l'altro oppure al contrario hanno potuto fare una riunione dei giocatori una seconda sessione zero in cui tutto quello che nel dubbio viene nuovamente votato magari per avere anche l'opinione di quelli che avevano votato tutt'altro ma adesso dovranno scegliere se è freddo o caldo nel nostro caso specifico però c'è una cosa più furba da fare quindi procederemo in quel modo un altro elemento che è stato espresso più volte è quello che le zone più basse del mega dungeon contengano sfoghi magmatici laghi di lava o comunque siano già di per loro caratterizzate da temperature estremamente alte in questo modo noi sappiamo già che il fondo del dungeon sarà un'area dal clima caldo che potrà contenere tutti i troppi possibili per quanto riguarda l'ambiente caldo di conseguenza tutti quelli che hanno votato per il deserto tecnicamente sono già accontentati hanno già una zona dove si può ambientare qualcosa che potrebbe piacere a loro a questo punto facciamo che gli strati alti siano invece totalmente gelati in questo modo acconteremo anche l'altra metà dei votanti ma nella pratica tutti e due i gruppi avranno una zona che sarà virtualmente quella che loro hanno chiesto venisse inserita nell'ambientazione abbiamo quindi due biomi distinti quindi abbiamo il doppio delle possibilità di avere un ambiente per ambientare la nostra quest virtualmente abbiamo reso contenta la stragrande maggioranza delle persone e in più avere più aree rende il dungeon più singolare più caratteristico aiutato anche a dare più profondità all'ambientazione c'è poi un altro elemento ricorrente che è apparso in varie proposte quello di una zona di vegetazione lussureggiante c'è chi l'ha proposto come un oasi in mezzo al deserto chi l'ha proposto come scaturito dalla tecnologia stessa per chi invece qualcosa in naturale ma in realtà tanti hanno proposto l'idea proprio che in qualche modo sottoterra all'interno del megadungeon ci sia un qualche tipo di giungla avendo già stabilito due biomi avendo già dato varietà al megadungeon non c'è un reale problema inserire un terzo quindi la fascia centrale del nostro megadungeon sarà appunto caratterizzata da un clima più temperato che separa il freddo intenso dalla parte superiore dal caldo rovente dei livelli più bassi per giustificare la cosa in fiction qui andiamo a prendere in realtà paro paro l'idea proposta da paul e diremo che il vapore che si inalza le colonne di calore che salgono verso la superficie dagli strati magmatici vanno poi a raffreddarsi col freddo della superficie creando al centro del dungeon quella che è una vera e propria fascia climatica pluviale con laghi termali che si vengono a formare dove il ghiaccio si scioglie per via della lava e qui ci sarà appunto la possibilità che si sviluppi una lussureggiante foresta primordiale per quanto probabilmente questo sia l'ambiente più inverosimile da trovare sotto terra in questo modo abbiamo anche dato una giustificazione in fiction che renda plausibile la sua presenza all'interno di un sistema di grotte ora ovviamente questo serve solo per la sospensione dell'increduità francamente non lo so se sia plausibile probabilmente qualcuno che si intende di climatologia o di speleologia in questo momento si sta strappando i capelli perché non ha senso ma per quanto riguarda la maggior parte delle persone questa giustificazione probabilmente sarà più che sufficiente e anzi non è detto che questo non possa poi essere detto magari da qualche png durante la quest e magari ci potrebbe essere qualcuno che è proprio lì per studiare questo bizzarro fenomeno in questo modo la giustificazione apparirà proprio testualmente all'interno all'avventura e servirà anche per dare più profondità al tutto e dare ai giocatori un ulteriore senso di verosimiglianza perché a quanto pare il mondo intorno a loro segue delle regole comprensibili diciamo quindi che con questi tre biomi principali la struttura base del nostro mega dungeon può dirsi conclusa non solo abbiamo zone diverse con caratteristiche diverse in cui quindi possiamo ambientare tipi di incontri e tipi di storie diverse ma montate tutto assieme danno l'idea appunto di questo luogo fantastico esotico e meraviglioso che potrebbe di per sé essere uno sprone per i giocatori ad andare a esplorare la struttura anche solo per vedere quanto bizzarra diventa man mano che si scende c'è poi un altro elemento ricorrente che francamente mi ha sorpreso la maggior parte delle proposte ha fatto riferimento al fatto che all'interno del mega dungeon ci siano le rovine di un'antica civiltà e questo diciamo che di per sé non è strano il il dungeon che è la rovina di un qualche antico edificio è un troppo abbastanza comune il fatto è che tutte queste proposte hanno descritto l'antica civiltà come molto avanzata anche questo non è così strano ma si sono tutti su focalizzate sul fatto che non fosse semplicemente molto avanzata ma che fosse estremamente meccanizzata sì nel dungeon ci sono i robot diciamo che questo è l'esempio perfetto di quale sia il potenziale vantaggio di creare un'ambientazione in maniera collaborativa perché io i robot nel mega dungeon francamente non è che non ce li avrei messi perché di per sé è anche una buona idea ma non ci avrei mai pensato non avrei mai associato questo tipo di trope alle avventure esplorative del mega dungeon e invece poi riflettendoci in base alle proposte funziona funziona anche bene quindi diciamo che se avessi scritto io un mega dungeon da solo per fare gli esempi invece di ricorrere aiuto della community questo elemento non l'avrei inserito probabilmente se è andato molto più sul banale usando i non morti o qualcosa del genere e di conseguenza il mega dungeon che avrei progettato da solo sarebbe stato oggettivamente qualitativamente peggiore perché molto più scontato di quello che invece abbiamo ottenuto lavorando assieme al di là di questo comunque palesemente la presenza di esseri artificiali e meccanici è un elemento che è stato richiesto dalla maggioranza quindi noi inseriremo il nostro mega dungeon infatti ci sono aree caratterizzate da antiche rovine ancora adesso abitate da esseri meccanici di varia natura dobbiamo però andare a definirli meglio per caratterizzare il nostro mega dungeon quindi andiamo a sfogliare le varie proposte che sono arrivate e vediamo per esempio nella proposta di mattia il fatto che gli autoni siano divisi in due fazioni questo di per sé è un altro elemento ricorrente non legato agli autoni ma tantissime proposte di quelle che sono arrivate dicono che ci sono due fazioni ideologiche all'interno del mega dungeon e nella maggior parte dei casi la loro differenza è proprio quella se usare o meno la tecnologia contenuta all'interno del dungeon quindi questo sarà il primo elemento che utilizzeremo per caratterizzare i nostri automi sono divisi in due gruppi un gruppo favorevole all'esplorazione degli abitanti di superficie e un gruppo del tutto contrario sempre per aumentare la caratterizzazione dato che questa diventerà la fazione principale all'interno del nostro mega dungeon possiamo poi prendere altre idee tra quelle che sono arrivate per esempio si fa riferimento al fatto che ci siano anche automi non senzienti che potrebbero accompagnare quelli invece più complessi e intelligenti nello specifico poi per esempio c'è un riferimento a una creatura che in realtà non è stata descritta come un automa ma un enorme verme dalla corazza adamantina che scava gallerie espandendo il mega dungeon ottimo questa idea è stata presa e inserita nel mostrario meccanico che caratterizza la fazione degli automi chi ha visto già i video poi mente ha capito a cosa ci stiamo riferendo vari piccoli elementi sparsi presi da varie idee sono quindi stati tutti messi assieme caratterizzati a tema robot e utilizzati per rendere la fazione degli automi tipica caratteristica di questo dungeon integrata nella sua storia e facilmente distinguibile da qualsiasi altro gruppo di esseri meccanici possa essere presente in un'altra ambientazione ovviamente per quanto gli automi siano divisi in due gruppi ideologicamente distinti tra di loro non basta una sola fazione a caratterizzare l'intero mega dungeon questa è un'ambientazione pensata per ospitare al suo interno un'intera campagna non una singola quest quindi bisognerà introdurre altri png con cui i giocatori in un modo o nell'altro dovranno avere a che fare andando a setacciare le altre idee che sono arrivate troviamo altri riferimenti che si ripetono quello che ci siano famiglie nobili o governi che vanno a finanziare l'esplorazione delle profondità il fatto che ci siano enclavi di nani o comunque altre razze tipicamente sotterranee che abbiano stabilito le miniere nel mega dungeon e anche l'idea che ci sia un qualche tipo di popolo non civilizzato molti hanno proposto che sia proprio fatto da umanoini bostruosi altri invece dicevano umani primitivi comunque un popolo non civilizzato che sia autoctono del dungeon stesso prendiamo quindi ognuno di questi elementi ricorrenti lo leghiamo con gli elementi simili delle altre proposte e poi andiamo a dividere queste nuove fazioni in base alle aree geografiche in modo che in ogni zona del dungeon gli avventurieri abbiano qualcosa da fare avremo quindi nani e creature sotterranee che hanno miniere nelle profondità ma anche umani barbarici che si danno al banditismo nella fascia intermedia avremo civiltà di umanoidi mostruosi prevalentemente poco tecnologici che si rifanno al troppo dei selvaggi della giunga ai popoli precolombiani e cose del genere mentre negli strati più alti assieme agli automi avremo questi gruppi di nobili e governi che hanno stabilito campi base sulla superficie da cui procedono a mandare poveri disgraziati per scoprire cosa c'è nelle profondità del dungeon in questo modo abbiamo un ventaglio molto più ampio di png e varie fazioni che daranno più possibilità ai giocatori di poter scegliere da che parte schierarsi in base alla situazione e dato che queste fazioni potrebbero entrare in conflitto tra di loro questo potrebbe a sua volta ricadere sui giocatori che dovranno districarsi a questo conflitto o schierarsi da una parte all'altra e valutare cosa è meglio fare per loro in questo modo il mega dungeon verrà esplorato non solo dal punto di vista della sua geografia ma potrebbe esserci anche un'esplorazione di quella che è la sua politica interna se quello che abbiamo visto finora però erano le opinioni di maggioranza tra quelle espresse nelle proposte a questo punto però ci troviamo davanti a un problema perché le opinioni di minoranza che sono state espresse solo da poche persone o da una singola proposta per forza di cose sono state escluse da tutto questo lavoro tecnicamente questa è la cosa migliore da fare ma i giocatori potrebbero rimanere scontenti del fatto che hanno perso e il mega dungeon è comunque una struttura molto molto grossa quindi c'è anche la possibilità di un ripescaggio mettiamola così ed è quello che andremo a vedere settimana prossima nell'ultimo episodio per questo episodio invece è tutto come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nell'area dei commenti qui sotto e scrivetemi anche cosa voi avreste fatto con le idee che sono arrivate perché le scelte che ho fatto io su che cosa inserire non sono per forza quelle migliori o comunque le uniche possibile quindi magari anche voi volete dire la vostra per il resto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord a gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove si riunisce la community del master kai che è poi quella che produce queste mostruosità di video per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video